Detenzioni a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e questa è l'accusa che la procura della Repubblica di Sulmona contesta un trentenne residente in città con precedenti specifici che ieri è stato rinviato a giudizio dal giudice per le udienze preliminari Marco Bigli. I fatti risalgono al novembre 2019. Secondo i magistrati il giovane in esecuzione di un medesimo disegno criminoso avrebbe ceduto in più occasioni sostanza stupefacente del tipo cocaina a tre persone del posto sentiti a sommarie informazioni nel corso delle indagini preliminari. Il procedimento a carico del trentenne nasce dall'altra inchiesta che lo ha visto coinvolto due anni fa quando il 15 novembre 2019 fu arrestato in flagranza di reato dalla polizia che lo trovò in possesso di quattro dosi di cocaina all'esito della perquisizione veicolare 12 grammi della stessa sostanza e 55 grammi di hashish nell'attività di famiglia. Per quell'episodio il giovane fu condannato a un anno e quattro mesi di reclusione. L'inchiesta si è quindi allargata con l'acquisizione dei tabulati telefonici e della messaggistica di whatsapp fino a scoprire la cessione di cocaina a tre sulmonesi che sono stati sentiti a verbale e hanno chiarito particolari e circostanze. Per l'ipotesi di detenzione a fine dispaccio il trentenne dovrà presentarsi il prossimo 5 aprile davanti al giudice monocratico.